La Casa Circondariale di Teramo ha inaugurato questa mattina la sezione a trattamento avanzato femminile per la cura della genitorialità e nido. Nel centro-sud è la seconda struttura esistente. Avevamo a disposizione questa caserma per ex vigilatrici, ora Polizia Penitenziaria Femminile. E logicamente, considerato che gli spazi vitali in un carcere sono essenziali per restituire la dignità alle persone recluse, ci siamo comportati come piccoli imprenditori, diciamo, che in questa nostra realtà territoriale e locale, penitenziaria, abbiamo cercato di, sinergicamente, far confluire tutti i nostri sforzi, tutto il nostro impegno, la nostra abnegazione verso un obiettivo comune che è quello di realizzare una struttura a tutela dei diritti primari del minore e del genitore come diritto a recupero di un ruolo che è quello della genitorialità che si è affievolito a causa della detenzione. Attualmente di mamme con prole al seguito inferiore a tre anni ce ne sono due in questo preciso momento. Jessica è una delle due mamme che avranno questa opportunità, quanto è importante per voi? È importantissimo, è accogliente anche lì giù sotto, è importantissimo. Finora come hai vissuto con tuo figlio? Bene, non posso lamentarmi bene. Questo luogo che oggi viene inaugurato, come verrà vissuto da voi? Il doppio meglio, il doppio meglio perché non sembra un carcere, sembra una casa. Quindi per la vista dei bambini è un'altra cosa. Il mio figlio è un po' grandino, capisce cosa vuol dire ormai le sbarre. Non è facile guardarlo, quindi che hanno aperto questa struttura è una cosa stupenda. Quanti anni ha? Un anno e dieci mesi. Da un anno e quattro mesi che sto qua dentro con il mio figlio.